Mata Amritanandamai, meglio nota come Amma, è in questo momento la terrorista più ricercata al mondo. Nota per la sua terapia dell'abbraccio la vediamo in queste immagini di repertorio. La task force per il mantenimento del distanziamento sociale è già sulle sue tracce. Si pensa di poterla assicurare alla giustizia nel giro di pochi giorni. Per lei è pronta una condanna alla amputazione delle braccia. Servirà da utile monito per tutti coloro che intendessero trasgredire in futuro alle nuove norme per la gestione delle relazioni asociali del ventunesimo secolo. Uscire o non uscire, questo è il problema. Chi si nasconde dietro la task force per la ripartenza e quella per il contrasto alle fake news? La nostra redazione è entrata in possesso degli esclusivi filmati di presentazione delle nuove unità di controllo e repressione della presidenza del Consiglio. Farci arrestare sarà un giochetto da niente. Sono autentici. Davvero? Sono cattivi. Sul serio? Sono qui. Un'altra cliente! Mi ha smerdato.